Ronaldo Re Fasullo d'Inghilterra Amici dello gioccolo duro Indovinate dove l'ho presa sta canzone Robin Hood Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra Ma cosa ne sapete? Cosa ne sanno i Giovanni Dogi di Robin Hood? Allora Prima una premessa Mi avete deluso ragazzi eh Mi avete deluso, vi ho chiesto Vi metto il link Cioè il mio gol che ho fatto allo Sportra Mettete un pollicione, un like, semplice Dai che sto perdendo, siamo 30 punti indietro Siamo Siamo 2000 su sto canale Mettete un pollicione, vi lascio il link Fatelo subito, stop al video Vai giù, c'è il link Si apre il video dove c'è il mio gol esterno Metti il like E poi torni a vedere il video Comunque parentesi Parliamo, 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 parliamo Delle partite di ieri E della vigilia derby Perché stasera c'è il derby Quindi Partiamo dalle 15 A magica A magica ragazzi Ha preso due fichi in casa Romanisti arrabbiatissimi Giustamente Vorrei dire due cose Intanto questa SPAL sta sorprendendo Perché comunque sta facendo un po' di risultati utili Non è il primo Quindi la SPAL molto molto bene Petagna molto bene Si sta riscattando rispetto a Berga Adesso tira anche i rigori Quindi Comunque sta facendo un buon gioco Gli ha tolto un gol Olsen che ha fatto un miracolo Se no avrebbe fatto anche doppietta Quindi molto bene La SPAL che sta facendo benissimo La Roma ragazzi È figlia del suo allenatore Gli allenatori che giocano così Spergiudicati Possono fare grandi partite Così come possono fare Questi sconfitti In un campionato Non funzionano Quando io vi dico che il Milan Arriverà tra le prime quattro Indipendentemente dal derby E anche perché gli avversari sono queste La Roma L'Inter La Lazio Sono avversari che sono alla nostra portata Sono tranquillamente alla nostra portata Togli la Juve Togli anche il Napoli Perché ragazzi bisogna ammettere Che io mi aspettavo un declino del Napoli Ma A quanto pare Non ci sarà nessun declino Quindi togli il Juve e Napoli Gli altri due posti Se giochiamo noi L'Inter E la Roma e la Lazio Se la Roma e la Lazio Continuano così Siamo lì Siamo lì a giocarcela Siamo lì a giocarcela Quindi cari amici romanisti Mi dispiace Finché non si riprende Geko State buona Come dico dai miei parti Ma La Juventus Che ha pareggiato La Juventus Tutti quelli esaltati Oggi La Juve ha pareggiato State sereni L'unica cosa che cambia È che non vinceranno Tutte e 38 le partite Vinceranno comunque Il campionato Con 10 15 20 punti di vantaggio La mettetevolo in testa Però Non le vinceranno tutte Meno male Perché se no È veramente Una noia pazzesca E una cosa che ho notato Ieri Due cose Soprattutto per Ronaldo Uno Che è fisicamente A postissimo Cioè ieri L'unica partita Che ho visto tutte Quella della Juve E Cioè corre Tutta la partita Da destra Sinistra Si sposta Quindi fisicamente Io lo vedo molto bene Ronaldo Nonostante l'età Di solito Per quell'età Iniziano a stare più fermi Stanno vicino all'aria Solo quando gli arriva la palla Lui invece lo vedo Che svaria Dappertutto Corre Comunque Quando tu fai i dribbling Di velocità Lì ti toglie un sacco di energie E lui vedo che comunque Ce l'ha A livello fisico A livello fisico Quindi molto bene A livello fisico Ronaldo Pensavo peggio In realtà sta bene A livello fisico Malissimo ragazzi Sottoporta Ma quanti gol sbaglia Ronaldo Ma quanti ne sbaglia Cioè Sbaglia una cifra di gol Ok Ha segnato sulla riga Segnato chiunque Ma quanti ne sbaglia Sbaglia tantissimi gol Cioè una squadra Che gioca per lui E sbaglia tantissimi gol Non mi aspettavo Che sbagliassi tutti questi gol Ieri Ha fatto perdere due punti Alla Juve I suoi gol sbagliati Sono costati due punti Infatti C'era un ragazzo Che mi ha scritto No anche Eh guarda i voti Che prende sulla gazzetta Se è mezzo Anche oggi Prendi la gazzetta Ronaldo sette Sette La Juve ha pareggiato In casa col Genova Lui ha sbagliato I gol Che gli sono costati La vittoria Sette ha preso Quando io gli dico Non guardare i voti Che Hanno i loro interessi I giornali devono vendere Ronaldo C'ha migliaia di sponsor Non gli mettono Voti brutti Parleranno sempre bene Di lui Se tu vuoi vedere Tutti i giornali Parlano sempre bene Di lui Anche quando non fa niente Quelli sono interessi La realtà è un'altra cosa Nella realtà Ragazzi Ieri ha fatto perdere Due punti alla Juve Che poi non conterà nulla Nel campionato Non conterà nulla E Ronaldo non è stato preso Per vincere Contro il Genoa Ronaldo è stato preso Per la Champions League Quindi Non cambierà nulla Però sbaglia un sacco di gol Che non mi aspettavo Evidentemente si tiene Per fare i gol importanti Può essere Non lo so In ogni caso Ne ha sbagliati tanti Bene così Va bene così Per quanto riguarda Invece Il Napoli Ragazzi Il Napoli Io prevedevo un declino In realtà Mi sono già ricreduto Mannaggia Milik Può Può una squadra Vincere 3 a 0 E lui prende 5 Ha munito 4 e mezzo A fantacalcio Cioè io non lo so Poi non mi deve arrabbiare Ancora là Allora Mi piace Ancelotti Ragazzi Eh Ancelotti fa tutto Non c'è niente da fare Tanto ha messo le due punte Come piace a me Poi li fa girare Fa giocare tutta la squadra Ragazzi Il Napoli Ha vinto le prime partite Che sono state fondamentali Le prime partite Contro di noi Che perdevano 2 a 0 Contro la Roma Mi sembra che hanno vinto E Hanno vinto Quelle prime due partite Sono state fondamentali Per il Napoli Perché con quelle partite Sono Eh Hanno iniziato Nel giusto modo Nel giusto verso Se avessero perso Le prime due Poi sai I declini Sono conseguenziali Tipo adesso Real Madrid Che continua a perdere Continua a perdere Tra un po' Mandano via Lopeteghi Finalmente Forse arriva Conte Dicono E quindi vediamo Il Barcellona Si è rotto Messi Si è rotto il braccio Non giocherà contro l'Inter Quindi comincia il fluido malefico Dell'Inter Un po' come quando c'è stato il triplete No? Vulcani Espulsioni inondate Cos'è Adesso comincia Spero di no Perché se no Se continua così Questo fluido malefico Se la può giocare Se la può giocare Ovviamente Alla pari Non se la gioca Però Sai Tutto può succedere Nel calcio Anche il Porto Ha vinto una Champions League Quindi Tutto può succedere E Stasera c'è il derby Stasera c'è il derby Vi ho già avvisato Occhio Due occhi A cuor Riccardo Di Leone Rodríguez Occhio Che Se segna Rodríguez Pensatemi E Occhio al canale Che lo faccio esplodere Lo faccio esplodere Il canale Vi ho già detto Che non sono così ottimista Perché Perché l'Inter Difende meglio E le persone Io tra la bellezza E la concretezza Tifo sempre per la concretezza Perché alla fine È il risultato Che conta Perché se tu giochi Malissimo il derby Tu puoi giocarlo Male Malissimo Non tocchi una biglia Fai tutto quello che vuoi Quello che fa l'Inter Di solito Ma poi vinci Non conta niente Quello che hai fatto Zero totale Zero Zero totale Perché domani Conterà solo Chi ha vinto E chi ha perso Hai giocato bene Hai giocato male Eh Malibi Zero Scusa Eh no Ma noi siamo belli Costruiamo A me non me ne frega niente Di costruire Gattuso Te lo dico da prima Non farmi vedere i passaggini in aria Che spacco il telefono domani Possiamo perdere Ci sta Vinceremo Ma Tutto può succedere Una partita Ma non farmi vedere I passaggi dentro la nostra area Che prendiamo gol per i passaggi In aria Che vengo a prenderti Eh Vengo a prenderti Anche se sei più grosso E prenderò gli schiaffi Vengo lo stesso Vengo lo stesso Va bene Quindi ragazzi Quindi ragazzi Grande attesa Stasera ovviamente sarò a San Siro Vediamo se riesco a farvi qualche reportage Subito Post partita Non dipenderà dal risultato No quelli che mi Se perdi Poi il video non lo fai Tanto domani lo farò comunque Stasera lo faccio se riesco Non dipende dal risultato Dipende perché lì a San Siro Non prende Prima cosa Seconda cosa È buio E quindi Cosa lo fa Con la luce della macchina Lo devo fare Mi è una cagata Quindi stasera vediamo Se riesco lo faccio Non vi prometto niente Ci sarà anche Tony Tedo Eccetera Quindi Vedremo 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 Mi raccomando Fatemi sto favore Di mettermi il like Al gol del giocolo duro Che vinco i biglietti Per andare Al primo rosso Con Buffet Che devo dire Non posso Uno youtuber che non vince Un contest È veramente una roba Che non si è mai vista Sto perdendo il 130 A 95 Dai eh Sì Movers Movers E per il resto Fate i bravi Gustatevi la partita Stasera Ho letto C'è stato un solo 0 a 0 Un solo 0 a 0 In 29 anni Quindi molto bene Quindi Mi raccomando Forza mia ragazzi Sempre E comunque Ciao belli Ciao belli